Provate ad alzare la mano proprio così, con una valutazione di pancia non tanto ponderata, ma chi è di voi che considera sbagliato che un avvocato difenda una persona colpevole? Alzi la mano chi considera sbagliato, però dovete essere tranquilli, sinceri, non sono molti, non c'è qualche altro braccio che si vuole sollevare, perché in realtà molta gente pensa questo e addirittura lo pensano anche alcuni magistrati. Mi è capitato pure di confrontarmi con dei giudici i quali non te lo dicono espressamente perché è un principio che è in contrasto con le nostre norme di diritto, ma lo pensano e lo capisci. Insomma non molti, pensavo che fossero di più, perché effettivamente è difficile pensare quando uno è colpevole che meriti pure di essere difeso. Allora facciamo una cosa, mi piacerebbe che due persone, a vostra spontanea scelta diciamo, venissero qui sul palco e mentre io parlo e vi racconto casi, esprimo se mi riesce dei concetti, scrivono su due manifesti che mi ha procurato mio figlio le parole che loro ritengono più significative di quello che sto dicendo, quindi mi piacerebbe che venisse su una ragazza e un ragazzo. Poi dopo vediamo che cosa hanno scritto e chiederei di scriverle non in ordine e in piccolo, come gli vengono, cioè parole grosse di traverso a seconda dell'importanza che loro ritengano abbiano queste parole. C'è qualcuno che vuole venire su? Non c'è niente di cui avere timore. Bravissima. Come ti chiami? Isabella, Isabella? Adesso un maschietto? Dai forza. Ci divertiamo tutti. Hai capito Isabella? Allora manca un ragazzo, chi è che viene? Partecipate. Samuele? Eccolo, bravissimo. Ah beh, ah beh, allora devo stare attento a quello che dico perché io lo conosco, lui è intelligentissimo. Grande calciatore. Allora, dovete avere però pazienza perché vi devo dare delle indicazioni, diciamo, chiamiamole così, tecniche, per capire che cos'è proprio per grandi principi il diritto di difesa e com'è sistemato nel nostro ordinamento giuridico. Due cosine che però servono per capire poi delle cose che vi racconto dopo. Allora qui, questo è un articolo 2, è l'articolo 2 della nostra carta costituzionale, cioè la Costituzione, che ha come affermazione fondamentale di principio quella secondo cui i diritti inviolabili. Ci sono dei diritti che l'uomo ha e sono inviolabili. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. È un'inunciazione veramente astratta che per quanto riguarda il diritto di difesa trova poi un'ulteriore specificazione in un'altra norma, che è l'articolo 24. L'articolo 24 della Costituzione ci dice, vedete lì nel rettangolo rosso, la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Che cosa vuol dire? Letta così vuol dire probabilmente molto poco a voi, credo. Si tratta di enunciazioni che hanno una origine gius naturalistica, perché è col gius naturalismo che si è capito che esistono dei diritti che prescindono dal singolo, che sono inviolabili per una loro origine naturale, connaturata all'essere umano. Sono cose molto importanti. Nella nostra carta costituzionale sono inserite e sono state sviluppate anche poi a livello internazionale, in particolare per questa materia, in una convenzione. Le convenzioni voi sapete cosa sono. Sono degli accordi internazionali, cioè tanti stati fanno un accordo comune e sostanzialmente adottano delle norme, che sono vincolanti per ciascuno stato. Allora, l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che passa con la sigla CEDU, Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, è un testo fondamentale che nasce all'esito della Seconda Guerra Mondiale. Seconda Guerra Mondiale è in particolare Novecento, e ci torniamo dopo. È uno dei secoli più tragici della storia dell'umanità. Le nazioni si ritrovano e adottano questa convenzione, questo accordo internazionale, che all'articolo 6 pone delle norme che disciplinano il processo penale e pone dei principi fondamentali. Il diritto di difesa, tutti hanno diritto di essere difesi. La difesa è fondamentale, è inviolabile, e questa è un'enunciazione che diventa ormai internazionale. La Convenzione del 1950, la nostra Costituzione entra in vigore il primo gennaio del 1948, quindi siamo lì. Sono anni in cui l'Europa, come voi sapete il mondo, esce dalle ceneri di una guerra terribile, la Seconda Guerra Mondiale, dopo averne passata una in precedenza che aveva gettato le basi per la Seconda, cioè la Prima Guerra Mondiale. Difendersi, diritto di difesa, devi difenderti da accuse, e anche questa è una cosa importante che poi torna per i discorsi che faremo dopo. Le accuse devono avere una descrizione di un fatto chiaro e preciso, cioè io non posso accusarti di fatti generici, di movimenti, di fenomeni, cioè tu non sei accusato di crimini contro l'umanità, punto. Io ti devo accusare di fatti storici precisi, ti devo accusare, ti faccio di anticipo dei temi che poi trattiamo dopo analizzando un caso specifico. Io non ti posso accusare di aver fatto lo sterminio degli ebrei, io ti devo accusare di aver in una certa data, con altre persone, con determinati mezzi, sterminato o comunque ucciso un numero tot di persone, e quando posso, secondo questi principi, devo pure indicarti nome e cognome. Certo, se parliamo di crimini contro l'umanità, indicare nomi e cognome di milioni di ebrei, ad esempio, che è questo il tema che tratteremo dopo e che è già preannunciato nel titolo, è difficile. Però il principio è che io ti devo fare delle accuse di fatti storici precisi, determinati. Questo è un principio che io vi sto indicando in relazione a dei fenomeni terribili, lo sterminio, quindi giganteschi, però è un principio che quando viene poi calato nella realtà giudiziaria quotidiana, è molto semplice, cioè io sono accusato di furto, non possono accusare, lei è accusato di furto, si risponda di questa accusa. Io devo andare davanti a un giudice, un pubblico ministero, cioè un'accusa, mi deve fare una contestazione chiara e precisa, è enunciato in questa norma, io devo essere, vedete, è sopra la lettera A, essere informato nel più breve tempo possibile in una lingua a lui comprensibile ed in un modo dettagliato. Mi devi accusare di aver sottratto un determinato portafoglio sul metro in data a questo soggetto con delle coordinate di tempo specifiche, cioè mi si deve descrivere pur, in termini essenziali, un fatto storico preciso. Allora, queste sono delle enunciazioni. Il diritto di difesa può essere declinato in tante maniere. C'è la difesa fatta attraverso il difensore di fiducia. Voi sapete cosa vuol dire questo. Cioè io sono imputato, sono accusato, vado da un difensore, cioè da un avvocato che io conosco, gli do il mandato perché ho fiducia in lui e lui mi difende. Però ci sono i sistemi processuali ed il nostro è così da secoli sostanzialmente. Certamente dal codice del 1930, che poi è il codice di procedura penale, quel codice in cui ci sono tutte le norme che regolano il processo, sono molto complicate. Allora, nel nostro sistema, sin dal 1930, poi voi non sapete, ma nell'88 c'è stata un'altra riforma epocale che ha modificato le linee di struttura del nostro codice, allora la difesa può essere fatta con il difensore di fiducia e se tu non nomini il difensore di fiducia il processo non può essere fatto senza avvocato, cioè senza difensore. La legge prevede che si debba nominare un difensore d'ufficio. Questo cosa significa? Che quando un pubblico ministero riceve una notizia di reato, furto, quest'uomo ha rubato il portafoglio in questo... Allora dice, c'era il difensore di fiducia? No. Allora lo avviso e gli dico, guarda, se tu sei accusato... Sto semplificando, poi in realtà non è proprio così. Comunque, la prima cosa devono verificare se tu ti sei stato messo in condizione di nominare il difensore di fiducia. Se non l'hai fatto, dopo essere stato avvisato, ti nominano loro un difensore d'ufficio, perché senza il difensore d'ufficio nel nostro sistema non si può fare il processo. È un principio fondamentale. Ed è un principio che secondo me è di altissima garanzia e di altissimo sviluppo di civiltà del diritto. Non tutti i paesi ce l'hanno, ci sono i paesi in cui non c'è problema. Poi, senza il difensore di fiducia, evidentemente si accentua, cioè nei paesi in cui non ti garantiscono il difensore d'ufficio, si accentua quel problema, quel difetto gigantesco che è tipico di tutti i sistemi giudiziari, dell'effettività della difesa, perché poi si distingue tra ricchi e poveri. E chi è ricco si nomina il difensore di fiducia, perché la difesa costa molto. Chi non è ricco e non ha i soldi viene difeso dal difensore d'ufficio con mezzi diversi. O meglio, nei sistemi in cui non c'è neanche il difensore d'ufficio, non ci si difende proprio, perché la difesa, la cosiddetta autodifesa è un mezzo molto debole, è un mezzo molto debole perché la difesa nel processo è una cosa molto tecnica e c'è dietro tutto un background di preparazione specifica, professionale che l'avvocato deve avere. Se uno va davanti ai magistrati e si difende da solo, fa un pastrocchio, dice cose che crede che siano proprio a difesa, quando magari non conosce le norme del diritto e vengono percepite come confessioni. Un disastro. E allora il nostro sistema che ti garantisce per forza la difesa, la difesa in ogni caso, o di fiducia se tu fai questa scelta, o d'ufficio, è un sistema che secondo me è di alto livello di civiltà del diritto. Se per caso io parlo di cose che voi non capite, non abbiate problemi, alzate la mano e mi fate la domanda subito, se no diventa complicato e vi perdete. Allora, cosa dice questa convenzione? Invece la convenzione nel 1950 bisognava andare anche spediti e la convenzione dice, no, l'autodifesa è consentita, quindi o ti nomini il difensore di fiducia se vuoi, se hai i mezzi, altrimenti ti puoi difendere da solo. Fatta questa premessa, a questo punto andiamo a raccontare alcuni casi per capire che cosa vuol dire diritto inviolabile dell'uomo, cioè la difesa è un diritto inviolabile dell'uomo. Che consistenza ha, che cos'è, cosa vuol dire. Allora, cominciamo ad andare indietro nel tempo. Io vedo qua qualche professore, si ricorda sicuramente gli anni di cui sto per parlarvi, siamo nel 1976, sappiate che non so quanti di voi abbiano studiato la storia che si chiama contemporanea, quella veramente molto vicina. Io nel 1976 avevo 11 anni e mi ricordo bene queste cose. erano anni difficilissimi per l'Italia. Un giornalista molto bravo che lavorava alla RAI, si chiama Sergio Zavoli, non so se sia ancora in attività o se sia morto, comunque aveva chiamato quel periodo, aveva fatto una lunga serie di interviste molto molto ben fatte, aveva chiamato quel periodo La Notte della Repubblica. Siamo negli anni 70 e l'Italia è veramente devastata da tanti problemi giganteschi. Tremano le fondamenta delle istituzioni democratiche, perché è sconquassata dal terrorismo rosso, delle Brigate Rosse ad esempio, che addirittura nel 1978 sequestreranno e uccideranno l'uomo che era più importante, diciamo, in Italia per la politica di quell'epoca, e cioè Aldo Moro, queste cose voi le avete sentite già. Qui siamo due anni prima, nel 1976, abbiamo il terrorismo rosso, il terrorismo nero, il terrorismo nero che si era distinto per il cosiddetto stragismo, cioè un fenomeno storico per il quale determinati gruppi di estremisti, noi li chiamiamo neri per fare delle distinzioni molto semplici, cioè Brigate Rosse, terrorismo rosso e Ordine Nuovo, ad esempio, era una di quelle sigle, terrorismo nero. Erano due opposti che poi alla fine si avvicinavano. Per le modalità di azione, ecco, diciamo che il terrorismo nero, questi sono dei risultati della storia giudiziaria, che li possiamo dire senza problemi, perché ci sono sentenze ormai passate in giudicato che le confermano, terrorismo nero si era distinto per delle modalità stragiste, facevano delle stragi, mettevano le bombe in luoghi pieni di gente e morivano un sacco di persone. Poi parleremo anche di un caso di questo genere. Il terrorismo rosso, in quegli anni, faceva anche quello delle stragi, però un pochino più ristrette. Per esempio, quando avevano sequestrato Moro, erano morte molte persone, perché all'atto del sequestro c'era stata una sparatoria e avevano ammazzato tutta la scorta. Nel 1976 le Brigate Rosse si erano già lasciate alle spalle una lunga scia di sangue e di dolore. Avevano già ammazzato nel 1974 due militanti del Movimento Sociale Italiano, che era un partito parlamentare, perché era rappresentato in Parlamento, di estrema destra. Avevano ammazzato due carabinieri o tre e dei poliziotti nel 1974-75. Insomma, c'erano già stati sei omicidi. Facevano paura, avevano sequestrato dei giudici. Avevano nel 1974 sequestrato il giudice Mario Sossi. Ci sono tante immagini, adesso noi ve ne facciamo vedere alcune. Insomma, l'Italia in quel momento non solo è distrutta, è stretta nella morsa del terrorismo nero e del terrorismo rosso, ma è anche sconquassata dalle bande criminali. C'erano bande criminali. A Milano eravamo pieni, ma scorazzavano in tutta la penisola. Roma, Torino, Genova. C'era la banda di Vallanzasca, non so se l'avete mai sentito. C'era la banda di Francis Turatello. Questi erano criminali comuni, criminalità organizzata. Luciano Liggio era un altro mafioso, era venuto qua al nord e facevano l'industria dei sequestri. Sequestravano le persone ricche, o che loro ritenevano ricche, talvolta le lasciavano morire, finché comunque per ottenere il riscatto era un'Italia veramente in una situazione difficile. La notte della Repubblica significava proprio che era un momento in cui le istituzioni democratiche tremavano. E qui siamo nel 1976 a Torino. Allora qui a Torino nel 1976 fanno un primo grande processo, il processo ai capi storici delle Brigatte Rosse. Vi ho detto che avevano lasciato dietro di sé tutta una serie di azioni terroristiche e di sequestri, di omicidi, e avevano catturati, avevano catturato quelli che si sono poi accertati come i capi storici e si fa il primo maxiprocesso, avete già sentito questa parola, un processo con un sacco di imputati per tantissimi fatti che vengono contestati. Qui siamo a Torino, 1976, dietro le sbarre abbiamo un sacco di brigattisti rossi. Sono dietro le sbarre, sono persone che, compatte, si sentono dei prigionieri politici, dei militanti, durante le udienze urlano, sollevano i pugni, vedete queste qui sono tutte fotografie tratte da quel processo, sollevano i pugni, sono un blocco molto pesante, tutti hanno paura di loro, perché sono persone, questi sono in galera, sono iper blindati. Forse se torniamo sulle fotografie, vediamo come erano organizzate le forze dell'ordine intorno al palazzo di giustizia, intorno all'aula del tribunale. Vedete qua? Questi ad esempio erano i carabinieri, erano intorno perché bisognava presidiare, avevano paura. Non era la prima volta che facevano esplodere le carceri e scappavano. Era successo ad esempio, e succederà ancora, sia per alcuni terroristi che per alcuni criminali, come ad esempio Raffaele Cutolo, che era un altro camorrista, magari l'avete sentito nominare, quello del Don Raffae, quello della canzone di De Andrè. Vabbè, insomma, vedete i sacchi di sabbia, insomma, è una situazione, questo vi fa già capire la difficoltà e la paura che regnava in quel periodo. Allora, cosa succede? Succede che alla prima udienza di questo processo questi imputati entrano in aula e revocano i difensori di fiducia. Revocano i difensori di fiducia e minacciano di morte i difensori d'ufficio che, se fossero stati nominati, avessero accettato l'incarico. E qui si crea una situazione, adesso capite perché ho fatto quella premessa, no? Cioè, qui si crea una situazione mai vista in Italia, perché nessuno mai, degli imputati nella storia giudiziaria italiana, aveva fatto tanto e ci si pone il problema di come fare per fare il processo. Allora, io per farvi capire quale fosse l'intensità e il livello di intimidazione che proveniva da queste persone. Vi leggo una dichiarazione che loro hanno fatto in questo processo alla prima udienza per comunicare alla Corte d'Assise e in generale a tutto il popolo italiano, ma in Europa, perché poi erano cose molto seguite a livello europeo, quantomeno, no? Allora, siamo in quest'aula bunker, blindata, prima udienza, 17 maggio 1976, prende la parola uno di questi qua dentro la gabbia, si chiama Maurizio Ferrari e legge una cosa che loro definiscono proclama, una dichiarazione, legge questa cosa. Ci proclamiamo pubblicamente militanti dell'organizzazione comunista Brigate Rosse e come combattenti comunisti ci assumiamo collettivamente e per intero la responsabilità politica di ogni sua iniziativa passata, presente e futura. Si assumono la responsabilità di ogni azione delle Brigate Rosse. Affermando questo, viene meno qualunque presupposto legale per questo processo. Gli imputati non hanno niente da cui difendersi, mentre al contrario gli accusatori, e cioè lo Stato, hanno da difendere la pratica criminale antiproletaria dell'infame regime che essi rappresentano. Se difensori dunque devono esservi, questi servono a voi, egregie eccellenze, parlano ai giudici. Pensate voi i giudici che si sentono trattare in questa maniera. Per togliere ogni equivoco, revochiamo perciò ai nostri avvocati il mandato per la difesa ed invitiamo, e li invitiamo, nel caso fossero nominati d'ufficio, a rifiutare ogni collaborazione con il potere, perché loro hanno immaginato che la prima cosa che il Presidente della Corte d'Assise potesse fare a fronte della revoca di fiducia di tutti era nominare gli stessi d'ufficio. E loro li minacciano, cioè gli dicono guardate che se voi accettate l'incarico di difendervi d'ufficio, sostanzialmente vi ammazziamo. Perché la rivoluzione non si processa, questo dicevano. E quindi vuol dire che non riconoscevano lo Stato, non riconoscevano le regole del diritto processuale italiano, volevano bloccare tutto. Noi non vi riconosciamo come Stato, noi siamo dei prigionieri politici perché siamo dentro la gabbia e siamo dei combattenti, quindi voi non ci dovete processare, non avete il diritto di processarci. Allora cosa succede? Succede che una cosa, come dicevo, inaudita, non era mai accaduta, il Presidente della Corte d'Assise, che era una persona molto perbene, si chiamava Guido Barbaro, deve prendere i provvedimenti perché o non si fa il processo alle Brigate Rosse, si ferma tutto e lo Stato si inginocchia, oppure bisogna dare un difensore, anche di fronte alle minacce di morte. E allora cosa fa? Prende l'elenco dei difensori d'ufficio, che è quello che, quella figura di cui parlavo poco fa, cioè se non c'è il difensore di fiducia, lo Stato vi deve dare un difensore d'ufficio. Prende l'elenco dei difensori d'ufficio e li nomina. E questi cosa fanno? Si presentano all'udienza successiva e dicono Presidente, non accettiamo questa cosa. Sono tutti spaventati perché ragazzi in quei momenti non si parlava di scherzi di pacche sulle spalle o di insulti, si parlava di omicidi. e qui la situazione diventa ancora più pesante perché la giustizia non può accettare di fermarsi. Non possiamo accettare che un sistema processuale si fermi che uno Stato non sia in grado di giudicare delle persone accusate di reati gravissimi. E allora cosa facciamo? Il Presidente si comporta in conformità alle norme del codice di procedura penale dell'epoca che sono uguali a quelle di oggi e cioè si rivolge al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e gli chiede di assumere personalmente l'incarico ed eventualmente di trovare anche altre persone del Consiglio dell'Ordine che siano in grado di accettarlo. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino era una persona molto perbene, era un gentiluomo, una persona che era stato partigiano che nel 1968 una persona di cultura, una persona che si era distinta anche per meriti professionali importanti, un bravo Avvocato non era neanche penalista, era civilista e nel 1968 si era, perché ci sono le elezioni per diventare Presidente del Consiglio dell'Ordine e cos'è? Il Consiglio dell'Ordine è un organo rappresentativo degli Avvocati, gli ordini ci sono, c'è l'ordine professionale dei medici, raccolgono, curano l'idoneità professionale e tecnica di quelli che fanno questo mestiere e li scrivono sull'albo. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, questa persona che vi sto descrivendo, si chiamava Fulvio Croce e Fulvio Croce viene posto in una situazione di grande difficoltà umana perché si rende conto che è veramente difficile ed è pericoloso quello che il Presidente della Corte d'Assise gli sta chiedendo. Ci riflette, fa alcuni confronti con alcuni suoi amici dell'epoca che appartenevano al Consiglio dell'Ordine, del suo Consiglio dell'Ordine e poi alla fine dice no, qui ci sono dei principi così importanti sotto, quelli della giustizia, quelli del diritto di difesa che io decido di accettare l'incarico e accetta l'incarico attorno a sé riesce a coinvolgere anche tutta una serie di altri consiglieri cioè di altre persone che come lui facevano parte del Consiglio i suoi amici se ne distinguono due in particolare uno è l'avvocato Franzo Grande Stevens e l'altro è l'avvocato Chiusano non so se vi avete già sentito nominare forse il nostro amico Galassini sì perché sono due eminenze della Juventus e mi tocca parlare bene di queste eminenze qua Juventine però è andata così cioè queste persone erano coraggiosi Chiusano è stato per tanti anni presidente della Juventus Fubio Croce Franzo Grande Stevens Chiusano accettano e altri ancora accettano però il capofila è ovviamente il presidente cioè Fubio Croce cosa succede? e succede che tornano che tornano in aula si sentono ancora delle dichiarazioni tipo qualora i difensori accettassero la nomina saranno ritenuti come collaborazionisti del regime sempre quello là di prima che prende la parola processo dentro le gabbie leguano poi ci sono i carabinieri che corrono dentro cercano di prendergli la dichiarazione forse ce l'abbiamo una copia della dichiarazione giusto per farvi vedere la sigla vedete quella stella a 5 punti era il loro logo e vabbè allora dice sono collaborazionisti del regime queste qui sono fraseologie di guerra no? avete mai letto i tempi del fascismo collaborazionisti con le conseguenze cioè sono dice li considereremo quegli avvocati che accettano l'incarico li considereremo collaborazionisti del regime con le conseguenze che ne potranno derivare che cosa significa? e significa che questi qui sono condannati a morte allora l'avvocato Fuvio Croce e quegli altri che lui ha riuscito a mettere insieme assumono l'incarico vanno in udienza si presentano all'udienza del 25 maggio del 1976 e cominciano a difendere i brigatisti li cominciano a difendere nel merito anche e questi dal d'interno delle gabbie li insultano e continuano a minacciarli tafferugli presidente che li allontana portano dentro portano fuori sono delle scene incredibili e comunque questi qui continuano a minacciare il loro avvocato cioè quello che davanti ai giudici cerca di portare all'evidenza alla corte diciamo la corte d'assise che li deve giudicare degli elementi positivi lo stesso avvocato Fulvio Croce anzi no non personalmente lui ma la questione l'ha posta l'avvocato Franzo Grande Stevens per cercare di uscire anche da questa situazione e allora hanno portato una hanno sollevato davanti ai giudici quella che si chiama questione di legittimità costituzionale questione di legittimità costituzionale vuol dire che uno va davanti un avvocato va davanti ai giudici e dice voi mi volete giudicare per una certa norma con una certa norma in questo caso una norma di tipo processuale cioè quella che dice che senza difensore non ti puoi difendere e però siccome questa norma del nostro processo italiano è una norma che è in contrasto con quella di cui abbiamo parlato prima cioè l'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo che consente l'autodifesa allora loro hanno chiesto al giudice di dichiarare di mandare tutto vabbè non lo dichiara il giudice del processo della corte d'assise ma lo dichiara la corte costituzionale loro hanno chiesto al giudice cioè alla corte d'assise quello davanti a cui si trovavano davanti a cui si svolgeva questo processo di mandare tutto per la decisione alla corte costituzionale il giudice della corte d'assise però per legge deve valutare la fondatezza manifesta o la non manifesta infondatezza della questione il giorno in cui loro hanno sollevato questa questione di legittimità costituzionale i giudici per poterci pensare su bene per studiare il caso hanno sospeso il processo hanno rinviato a qualche giorno dopo eravamo ormai già al 7 giugno del 1976 e l'8 giugno 1976 cioè il giorno dopo a Genova viene ucciso con un atto rivendicato dalle Brigate Rosse il procuratore generale presso la corte d'appello di Genova il dottor Francesco Cocco questo forse ha creato un'emozione in più sta di fatto che il giorno dopo all'udienza o qualche giorno dopo all'udienza successiva là dove dovevano sciogliere questa riserva i giudici hanno rigettato la questione dichiarandola manifestamente infondata e da quel momento in poi il processo è partito perché loro hanno detto no il diritto all'autodifesa è questione manifestamente infondata non si discute si fa il processo con il difensore d'ufficio difensore d'ufficio Fulvio Croce gli altri ah no Francesco Cocco non scusate ma perché sì sì perché purtroppo ragazzi non abbiamo avuto poi questo tempo per poter sincronizzare tutti i movimenti allora sì questa è la pagina di giornale che indica che è stato ucciso questo altro magistrato il procuratore generale presso la corte d'appello di Genova è la figura di vertice del pubblico ministero avevano ammazzato un altro magistrato molto importante e quindi terrore cresceva e chi è che vuole assumere un incarico come questo e invece Fulvio Croce io me lo immagino Fulvio Croce in casa sua la sera con sua moglie che discute dice ma sei matto ad andare ad assumerti queste responsabilità fai come fanno gli altri cioè rinuncia all'incarico e invece lui come vi ho detto era una persona molto coraggiosa molto legata a dei principi di valore importantissimo appunto come quello del diritto alla difesa e come quello del diritto di uno stato di giudicare gli imputati che ha voluto andare avanti che cosa succede che i tempi della giustizia sono sempre molto lunghi i giudici fanno un anche per cercare di stemperare un po' forse fanno un lungo rinvio rinviano l'udienza all'anno successivo alla data del 3 maggio del 1977 nel frattempo una sera il 28 aprile del 1977 non una sera un pomeriggio dopo pranzo l'avvocato Fubbio Croce torna nel suo studio in macchina era una brutta giornata una giornata di pioggia sottile grigia tipica delle giornate brutte torinesi cielo grigio arriva in macchina con due sue segretarie scende dalla macchina si avvia verso il portone del suo studio a un certo punto sbuca fuori un ragazzo una voce maschile da dietro dice avvocato lui non lo sente va avanti un'altra ragazza si mette vicino alle segretarie le mette in disparte avvocato si sente ancora da dietro lui alle spalle a quel punto lui sente la voce alle spalle da dietro si gira e con una Nagant M 1895 cioè una pistola di fabbricazione russa gli sparano due colpi in testa e tre al torace e questa è la foto dell'avvocato Fulvio Croce ecco allora ragazzi questo questo ragazzi è un caso che secondo me è veramente veramente significativo perché vi fa capire che il diritto di difesa nella sua inviolabilità è un diritto che prescinde dalla colpevolezza dalla non colpevolezza dell'imputato è qualche cosa che si che si slega addirittura dal dal concetto di bene e male che si slega dagli esseri umani è una cosa che va più in alto va veramente più in alto al punto tale che è talmente legata ai principi di civiltà del diritto che c'è una persona che ha dato la vita per questa cosa l'ha sacrificata consapevolmente perché questo avvocato Fulvio Croce è una figura di eroe borghese voi forse avete sentito nominare un altro eroe borghese l'avvocato Giorgio Ambrosoli non avete mai sentito parlare di questo c'è un libro bellissimo che si intitola Un eroe borghese scritto da Corrado Stajano e che racconta la storia di questo avvocato Giorgio Ambrosoli adesso non posso raccontarvi pure questa se no non ci stanno più gli altri mio figlio mi dice di tagliare quanto tempo è passato siamo già a metà e allora la vedo la vedo brutta vabbè però questo è un caso cosa questo è un caso molto importante perché vi è come se noi ci calassimo in un in un laboratorio no con tutti gli alambichi sapete sapete le distillazioni gli alambichi che riescono a separare i fumi a isolare le sostanze chimiche ecco immaginatevi un alambicco che riesca ad isolare il concetto del diritto di difesa lo vediamo lì in un alambicco il diritto di difesa è qualcosa che è distante dal versare nel bene o nel male è qualcosa di più importante più importante dell'essere umano perché è un sistema è quello che consente alla giustizia di operare nella maniera migliore che è poi la maniera migliore per tutelare le posizioni dei singoli e per difendere anche gli innocenti quindi là dove non c'è l'affermazione del diritto della difesa del colpevole siamo in un sistema questa è la mia opinione in cui è messo in gioco anche il diritto della difesa dell'innocente questo è l'insegnamento che noi dobbiamo trarre da questo sacrificio che ha fatto l'avvocato Fulvio Croce e allora andiamo avanti visto che il tempo scorre inesorabile scusate un secondo voi sappiate che il mio peggior nemico è il tempo perché io quando vado davanti ai giudici a parlare c'ho sempre della gente che mi dice avvocato perché io c'ho da fare dice il giudice ho una valanga di processi non mi prenda tutto il tempo lei quindi è una lotta continua io sono sofisticatissimo vi posso ingarbugliare come voglio per tenervi qua so il problema è che poi a un certo punto qui suona la campanella me ne devo andare allora parliamo di un'altra cosa allora a questo punto vi dico proviamo a pensare alla difesa di uno dei criminali peggiori che possiamo immaginare cosa c'è di peggio che uno responsabile di crimini contro l'umanità niente allora parliamo del caso del di Adolf Eichmann non so quanti di voi lo abbiano sentito nominare lo avete sentito nominare allora Adolf Eichmann vabbè qui bisogna bisogna dare fare una piccola premessa su chi su chi era questo Adolf Eichmann allora no però Andrea adesso cerchiamo di se no non ha senso casomai non racconto un caso al posto di un altro allora Adolf Eichmann è un criminale nazista criminale nazista che era inserito in una struttura che si chiamava RSHA che era sostanzialmente un un ufficio RSHA è una sigla era l'ufficio centrale per la sicurezza del Reich lui era inserito in questa struttura questa struttura era molto articolata e lui era stato posto alla fine alla base come responsabile di una sottosezione la sottosezione B4 sottosezione B4 che era la cellula per la tutela della sicurezza degli SS sottosezione sotto di lui sopra di lui avevamo nell'ordine uno che si chiamava Müller un altro che si chiamava Heidrich non so se avete mai sentito magari Heidrich l'avete sentito era uno dei gerarchi nazisti più vicini a Hitler sopra Heidrich c'era un altro che si chiamava Himmler avete sentito pure lui e poi c'era Hitler quindi diciamo che c'erano un po' di distanze tra lui e non l'aveva mai neanche visto e conosciuto allora lui è considerato e ormai condannato definitivamente come il responsabile dell'assetto logistico dell'attuazione della soluzione finale che cosa vuol dire considerate che questa è una cosa complicatissima complicatissima perché per la realizzazione della soluzione finale che voi sapete che cos'è cioè lo sterminio degli ebrei di Europa per la realizzazione di questa cosa bisognava i nazisti dovevano prendere popoli interi da paesi lontanissimi pensate ad esempio alla comunità ebraica di Salonico in Grecia e portarli a morire nei campi di sterminio per parlare dei campi di sterminio voi sapete che non c'erano solo campi di sterminio c'erano campi di concentramento in cui venivano concentrati e morivano distenti però venivano concentrati ma poi c'erano anche i campi di sterminio che erano i campi che dovevano ammazzare direttamente nel giro di poche ore o di pochi giorni le persone che venivano deportate voi conoscete sicuramente nel paesino che si chiama Oswiecim cioè Auschwitz conoscete sicuramente Birkenau che era la parte di Auschwitz deputata allo sterminio degli ebrei dove si sterminavano al giorno decine di migliaia di persone per volta nelle camere a gas se ne sterminavano migliaia per volta forse non tutti questi lo sanno e quindi bisognava prendere questi popoli e portarli a morire in questi campi di sterminio che erano tutti concentrati in Polonia ce n'erano sei Birkenau Auschwitz Birkenau era uno di questi poi c'era Trebrinca Maidanek Helmno ce n'erano sei e bisognava portarli come li portiamo li portiamo con una rete ferroviaria e come si fa a far funzionare tutto ciò beh questa cosa è demandata ad Adolf Eichmann il quale studia a tavolino il modo per portare dei popoli interi da paesi più lontani dell'Europa a morire in questi campi ecco poi sul fatto che lui abbia deportato le persone abbia curato anche la deportazione delle persone nei campi di sterminio polacchi beh su questo poi torneremo dopo sta di fatto che lui è considerato l'architetto e il responsabile della logistica dell'attuazione dello sterminio partecipa ad una conferenza e questa è una cosa importantissima la conferenza di Van Zee 20 gennaio 1942 è una data fondamentale per tutto tutta la storia del genere del genere umano perché è la data in cui di fatto si delibera in questo posto che si chiama Van Zee in una villa questa è la villa dove c'è stata questa conferenza si delibera l'attuazione dello sterminio in quelle quantità e con la tecnologia a cui siamo abituati a pensarla noi prima di quella data 20 gennaio 1942 lo sterminio era fatto in maniera diversa innanzitutto non si pensava allo sterminio totale ma si pensava c'erano dei progetti della deportazione ad esempio di milioni di ebrei nel Madagascar poi invece fanno questa conferenza voluta direttamente da Hitler anche se Hitler non partecipa ma ci sono le persone più importanti diciamo che seguono tutti i settori strategici per l'attuazione di questa che loro chiamano soluzione finale perché poi usano sempre degli eufemismi non ti scrivono lo sterminio degli ebrei ti scrivono soluzione finale questione ebraica ciò da cui ovviamente siccome i documenti in cui si parla dello sterminio usano queste parole non parlano chiaramente ciò da cui hanno tratto poi la prova del fatto che loro stessi sapevano la gravità delle cose che stavano facendo e che non avevano nemmeno il coraggio di chiamarle come dovevano vabbè ad ogni modo abbiamo qui tutti questi personaggi sono personaggi abbastanza se non molto vicini a Hitler il più vicino è Heydrich che è questo qua lì c'è Eichmann insomma anche Eichmann partecipa alla conferenza di Van Zee conferenza di Van Zee che dicevo segna un momento importante perché introduce nella storia dell'umanità un unicum mai più realizzato da nessuno cioè l'applicazione della tecnologia allo sterminio degli esseri umani fino a quel giorno la storia dell'umanità è fatta di storia di popoli che sterminano altri popoli ma non con la tecnologia non con una rete ferroviaria che prende porta in un campo in cui c'è una camera a gas costruita per contenere migliaia di persone per poter gasificare nello stesso giorno popoli interi con un sistema ferroviario che deve tener conto delle coincidenze che non può aspettare perché se non ha finito di sterminare i primi 5.000 uvrei dell'Ungheria ne arrivano altri 5.000 e allora finisce tutto in putiferio cioè non so se vi sto spiegando se vi riesco a far capire le enormità della cosa sta dietro questa conferenza di Van Zee che è il momento in cui hanno deciso di realizzare su scala tecnologica lo sterminio allora cosa succede? questo detto in termini molto sintetici è un profilo che mi serve per introdurvi alla storia di Adolf Eichmann cosa succede? succede che nel 1945 lo sapete il Reich il terzo Reich di Hitler crolla siccome se ne rendono conto anche i gerarchi nazisti tutti quelli che facevano parte del partito se ne rendono conto i finanzieri cioè le banche i proprietari delle banche allora cosa fanno? fanno un accordo perché vogliono scappare i nazisti vogliono scappare allora fanno un accordo e gli dicono noi per quanto possiamo farlo ancora visto che abbiamo ancora noi in mano tutta la legislazione il potere legislativo vi facciamo delle norme che vi facilitano poi per continuare a consolidare il vostro potere voi ci aiutate a scappare ci date i soldi e nasce un'organizzazione che si chiama Odessa non so se avete mai sentito parlare di Odessa sono stati fatti su tanti film anche su questa cosa i bambini che venivano dal Brasile non so se l'avete mai sentito comunque vabbè questa organizzazione consente con dei finanziamenti aiuta i nazisti a fuggire ci sono delle vie privilegiate una di queste vie per andare sostanzialmente in Sud America cioè per andare in paesi dove diventa difficile poi con rapporti internazionali farsi poi espatriare estradare che significa mandare nel paese dove devi finire in carcere allora finiscono in Argentina documenti falsi una di queste vie privilegiate passava dall'Italia passava dal Brennero lui riesce a farsi dare da un vicario di una chiesa di Bressanone cioè da un prete che si chiamava Alois Pompanin riesce a farsi dare dei documenti falsi prende un altro nome si chiama Riccardo Clemente e come italiano riesce poi credo da Genova passa e finisce in Sud America voi sapete che in Europa c'era la caccia ai nazisti alcuni li avevano presi e li avevano processati a Norimberga al processo di Norimberga il processo di Norimberga erano stati condannati tanti nazisti quasi tutti alcuni a morte altri a l'ergastolo altri a decenni di reclusione c'era Winston Churchill che diceva il processo di Norimberga volete fare un processo sta gente qua ma questi vanno fucilati direttamente e no però esigenze internazionali l'America voleva fare un discorso che si presentasse come civile anche per le condanne allora Winston Churchill diceva insomma fate quello che volete basta che li fucilate è stato in fretta e così insomma il problema per i nazisti era che non dovevano farsi beccare lui riesce ad avere questi documenti e va va in Argentina a Buenos Aires ricomincia a farsi una vita da umile fa dei lavoretti poco significativi ma gli si consentono però pian pianino si sistema trova probabilmente anche confortevole così l'assetto sociale in cui si era collocato si vede ancora con i suoi vecchi compagni nazisti ce n'è uno che si chiama Willem Sassen che fa il giornalista si incontra con questo Willem Sassen tanto per darvi l'idea del personaggio Eichmann Willem Sassen raccoglie delle sue dichiarazioni e lui e lui scrive cioè lui dichiara Eichmann dichiara No, non ho assolutamente rimpianti e non mi cospargo il capo di cenere nei quattro mesi durante i quali hai presentato tutta la materia cioè nei quattro mesi in cui hai parlato sostanzialmente della mia vita perché lui aveva reso delle dichiarazioni biografiche dice nei quattro mesi in cui hai presentato la materia durante i quali hai cercato di rinfrescarmi la memoria mi sono tornate in mente molte cose sarebbe troppo facile potrei ragionevolmente farlo per ringraziare l'opinione pubblica recitare la parte di un Saulo che è diventato Paolo cioè sapete la storia di San Paolo che prima di diventare santo non era nemmeno cristiano poi si è convertito al cristianesimo Sauro si chiamava prima e Paolo quindi dice farei la figura di uno che finge di essere buono ma devo dirti che non posso farlo perché il mio essere più profondo rifiuta di dire che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato no devo dirti in tutta sincerità che se dei 10,3 milioni di ebrei ne avessimo uccisi 10,3 cioè tutti io sarei soddisfatto direi benissimo abbiamo sterminato un nemico questo era quello che lui aveva dichiarato ad un giornalista a Buenos Aires si era allargato e non solo ma lui aveva un figlio che si chiamava Klaus il quale aveva una fidanzatina che si chiamava Silvi questa Silvi era la figlia di un ex deportato ebreo allora questo Klaus il figlio ha cominciato a lasciarsi andare anche con la fidanzata a raccontare a dire guarda mio papà non si chiama Riccardo Clemente noi siamo e gliel'ha raccontata tutta questa qui va dal papà il papà che naturalmente era stato che era pure stato deportato e messo in campo di concentramento si mette in contatto direttamente con una figura particolare tedesca cioè con il procuratore Fritz Bauer eccolo qua Fritz Bauer che è uno insieme ad esempio a Simon Wiesenthal che ha dedicato la sua vita a scovare i nazisti questo qui era uno socialdemocratico ebreo eppure omosessuale e siccome era no ma ve lo dico non perché certamente perché siccome era omosessuale questo è stata per lui una grana gigantesca perché all'epoca in Germania l'omosessualità era un illecito non vi dico proprio un reato ma era un'attività sanzionata dalla legge e su questa base lui che cercava di scovare i nazisti ha trovato delle difficoltà gigantesche lui prima essendo quello che vi ho appena descritto cioè socialdemocratico ed ebreo eppure omosessuale di sicuro non era simpatico ai nazisti ed era riuscito a scappare poi era tornato e ha dedicato la sua vita a trovare i nazisti riceve la notizia per la quale che era altro confermata per la quale Eichmann che è uno degli obiettivi della sua vita si trova a Buenos Aires e che cosa fa? naturalmente cerca di attivare la procura tedesca perché lui è un procuratore tedesco per farlo catturare e trova uno sbarramento non può fidarsi cominciano a fargli le scarpe a fargli capire che lui a causa del suo orientamento sessuale può avere dei problemi gli mettono in carcere un suo diretto collaboratore anche questo per per omosessualità guardate c'è un film bellissimo che vi racconta tutti questi episodi si intitola Lo Stato contro Fritz Bauer è un film molto recente se lo trovate è molto interessante insomma lui cosa fa? si rende conto che la Germania è ancora purtroppo legata al proprio passato c'è il cosiddetto concetto della continuità storica in tutti i paesi anche in Italia quando sono crollati dei regimi non è che sono spariti improvvisamente tutti quelli che prima amministravano il regime si sono riciclati allora l'eventuale cattura di Adolf Eichmann probabilmente aveva spaventato molti che all'epoca vivevano ancora nelle istituzioni tedesche e avevano trovato protezioni quindi lui si trova di fronte a un muro di gomma e che cosa fa? anche lui vive uno dei drammi suoi un dilemma pazzesco perché lui Eichmann non lo vuole fuggire e allora decide di rivolgersi al Mossad sapete cos'è? sono i servizi segreti israeliani e quindi fa una cosa gravissima per lo Stato tedesco alto tradimento ma lui rischia va in Israele si incontra con il Mossad il Mossad riceve l'informazione la verifica perché hanno altre persone a Buenos Aires e così architettano un blitz un'azione di cosiddetta extraordinary rendition cioè se lo vanno a prendere un giorno Eichmann a Buenos Aires sta camminando sta tornando a casa tra l'altro lo aspettavano ad una certa ora perché lui era abitudinario invece quella volta lì perde il pullman torna indietro questi stanno lì con una macchina con una gomma riversa sono vestiti male gli dicono un momento signore lui passa lui si gira li vede un momento signore poi lui capisce che c'è qualcosa di strano comincia a urlare a scappare questi gli saltano addosso lo narcotizzano lo prendono e lo portano via dieci giorni rimane in Argentina non si sa che cosa sia successo poi aspettano perché c'era una coincidenza che una delegazione israeliana era in Argentina per una celebrazione del 150esimo anniversario della Repubblica Argentina salgono sull'aereo che riporta questa delegazione dieci giorni dopo il sequestro e Eichmann si ritrova a Gerusalemme sequestrato cioè catturato dallo Stato di Israele e lo Stato di Israele instaura un processo penale contro di lui il processo penale del secolo allora qui il processo penale eccolo qua questa è l'aula il processo penale viene trattato come dicevo appunto il processo del secolo siamo in mondo visione c'è la televisione che trasmette le immagini del processo tutto il giorno ad ogni cadenza ad ogni udienza in tutto il mondo sui gir lui è questo qui è Eichmann sotto processo questa questa è l'immagine tratta da un altro film molto bello che vi fa che vi illustra si intitola The Eichmann Show e che vi illustra qual è stato tutto il lavoro e quali sono state peraltro anche le questioni non di poco conto di diritto e di politica dietro la trasmissione in mondo visione di questo processo è un processo seguito da tutto il mondo tutti i giornali ne parlano e allora lo Stato di Israele che in quel periodo era rappresentato dal premier Ben Gurion Ben Gurion è una figura importantissima perché voi sapete che lo Stato di Israele nasce nel 1948 quindi nel 1960 che è l'anno in cui viene sequestrato che è l'anno in cui viene catturato dal Mossad Eichmann è uno Stato appena nato voi pensate agli Stati a cui siamo abituati a pensare noi alla Francia all'Inghilterra all'Italia che hanno alle spalle almeno un secolo parliamo delle aveva alle spalle almeno un secolo quasi un secolo all'epoca l'Italia ma la Francia ne aveva tanti alle spalle l'Inghilterra millenni Israele era appena nato Israele era ancora lì che soffriva naturalmente per questa piaga insuperabile che era rappresentata dallo sterminio del popolo ebraico che avevano subito e allora Ben Gurion attraverso il pubblico ministero del processo che si chiamava Gideon Hausner monta su un processo carico di significati giganteschi perché attraverso il processo si vuole liquidare finalmente e per l'ultima volta la questione ebraica cioè il crimine contro l'umanità commesso dai nazisti attraverso lo sterminio degli ebrei d'Europa si vogliono rilanciare dei principi che si chiamano di sionismo cioè Ben Gurion aveva bisogno di creare un collante per lo stato di Israele per il popolo di Israele che era un popolo appena nato perché prima non avevano la terra voi lo sapete questo no? allora si carica questo processo di significati giganteschi si vuole processare Eichmann per condannarlo per tutti i crimini contro l'umanità e questo è un tema importante il processo viene teatralizzato passato come ho detto in mondo visione e insomma andava sistemata questa tragedia in mano del popolo ebraico attraverso il processo ad una persona abbiamo questo Eichmann quindi come nella veste di imputato qui lo vedete il processo si svolge in lingua inglese gli consentono di nominarsi un avvocato e lui si nomina un avvocato che si chiama Robert Servatius l'avvocato Robert Servatius eccolo qua era un avvocato che si era distinto al processo di Norimberga per aver brillantemente difeso alcuni degli imputati del processo di Norimberga e quindi lui l'aveva nominato peraltro veniva pagato anche dallo Stato di Israele perché lo Stato di Israele offriva questo mezzo naturalmente la la contrapposizione tra il potere del pubblico ministero dello Stato di Israele e il potere che aveva questo qua non era certo non era proprio così equilibrata quegli altri erano veramente forti nel senso che era tutto uno Stato che cercava di far entrare nel processo con potenza proprio tutti i principi le istanze le istanze di affermazione di questo collante del popolo ebraico nuovo allora Robert Servatius si trova in questa condizione di dover difendere Eichmann in un processo a Gerusalemme provate a pensare alla difficoltà che questo qui poteva incontrare tutte le mattine per andare in udienza dall'albergo in cui si trovava doveva andare in udienza e il clima lì era molto molto teso provate a calarvi nei suoi panni insomma lui questo qua è un altro che da solo si è messo lì a difendere Eichmann in questo processo e ha fatto dei discorsi diceva da un lato faceva delle difese tecniche diceva attenzione voi lo accusate di crimini contro l'umanità cerco di semplificare ragazzi perché se no se entro nei tecnicismi però dice voi volete accusarlo di crimini contro l'umanità ma qui in realtà voi lo accusate di crimini contro il popolo ebraico ma in realtà lui è accusato di crimini contro l'umanità la competenza la giurisdizione non sta a voi casomai portatelo in Europa faceva dei discorsi tecnici non del tutto irragionevoli quindi discuteva il fatto che loro avessero la giurisdizione discuteva che non fosse stato legittimo l'arresto perché se l'erano andati a prendere in un paese in Argentina dove loro non avevano questo potere non potevano entrare era l'Argentina che aveva il potere di arrestarlo dovevano rivolgersi alle autorità argentine insomma una serie di questioni tecniche e poi poi c'era il tema dei testimoni che molti erano presi dal processo di non rimarrere che avevano preso i verbali non avevano portato i testimoni e lui diceva io voglio controesaminare i testimoni perché se voi mi date gli verbali non c'è contraddittorio questo è un altro dei principi fondamentali della difesa il contraddittorio devo poterli controinterrogare no? vabbè però poi a un certo punto questi erano tutta una serie di questioni tecniche poi a un certo punto nel merito lui ha sostenuto questa cosa che è diventata molto famosa lui dice Eichmann era la rotellina passiva della grandiosa macchina dello sterminio nazista non era il capo non era l'unico responsabile era un soggetto che rispondeva a degli ordini inappellabili provenienti da Hitler a cui non si poteva opporre e questa era la tesi sostanziale della sua difesa poi un'altra tesi molto importante è che diceva allora nel merito voi lo accusate di tanti fatti storici tipo poi ci torniamo fra un attimo tipo l'evacuazione il vetto di Versavia la deportazione degli ebrei nei campi di sterminio degli ebrei dei paesi dell'est nei campi di sterminio polacchi tutte queste cose lui non le ha fatte ed entrava nello specifico cioè contestando la verità di alcune accuse la fondatezza di alcune accuse allora questa era la difesa di questo Robert Servatius ecco tra il pubblico e c'era e c'era molta gente che seguiva questo processo vi ho detto che lo seguivano in tutto il mondo ma molti erano presenti tra il pubblico c'era una signora e questa signora scriveva per era lì in veste di giornalista scriveva per una rivista il New Yorker e descriveva quello che accadeva in udienza descriveva e commentava in realtà dirvi che fosse una signora è un po' poco perché questa era una delle filosofie più importanti del novecento aveva studiato con Martin Heidegger che è un filosofo di cui forse avete sentito parlare un filosofo che era stato anche legato a lei da una relazione sentimentale poi si era lasciata con questo filosofo che è stato molto criticato accusato di antisionismo antisemitismo scusate e comunque accusato di aver serbato silenzio di fronte all'ascesa di Hitler comunque sotto questi aspetti a Heidegger è stato molto criticato comunque lei poi si è spostata è andata a studiare con un altro importante filosofo tedesco Karli Jasper insomma era una persona di grandissima cultura aveva già scritto due libri fondamentali le origini del totalitarismo e la condizione umana che sono due opere fondamentali che descrivono il fenomeno che contrassegna il secolo del novecento cioè il secolo dei grandi totalitarismi nazismo unione sovietica per parlare dei due più importanti e dei grandi stermini che vengono fatti dai totalitarismi allora questa signora questa professoressa si chiamava Anna Arendt e questa questa signora la conoscete l'avete sentita mai nominare ebbene questa signora scriveva e faceva anche i commenti sulle udienze ed è entrata nel vivo della difesa di merito e non solo di merito ma anche della difesa tecnica che aveva fatto questo Robert Servatius e aveva detto guardate che questo Robert Servatius non dice cose non dice cose assurde vuole che si escludano dai processi tutte queste ondate di ideologia la politizzazione tutti questi aspetti qui non devono far parte del processo il processo deve far parte deve avere ad oggetto esclusivamente l'accertamento di fatti storici che devono essere come vi ho già anticipato contestati in modo chiaro preciso descrivendo dei fatti e bisogna verificare se tu hai commesso o no questi fatti questa è la funzione del processo il processo non ha una funzione di affermazione di ideologie perché se attraverso il processo i magistrati fanno questa funzione qua vuol dire che il processo è ingiusto il processo deve avere un oggetto preciso l'accertamento dei fatti storici e non deve essere condizionato da nulla di più questa era una delle sue prime riflessioni sulla difesa di Servatius la teatralizzazione non deve influenzare il giudizio ma poi lei stessa entrò nel merito di quella difesa della rotellina passiva perché questo doctor Servatius diceva lui era soltanto la rotellina passiva della grandiosa macchina di sterminio del terzo Reich era la la rotellina passiva lei dice sì è vero questo non era il primo non era il primo responsabile vi ho detto all'inizio che lui era sotto uno di una sotto era inserito in una sotto articolazione dell'RSH che si occupava di una cosa peraltro la stessa la stessa Anna Areth in maniera molto simpatica diceva non aveva neanche capito di dove si trovasse perché lui credeva di dover tutelare i personaggi del partito nazionalsocialista invece era lì a dover tutelare i personaggi SS va bene comunque lei dice era vero è vero lui era la rotellina passiva non dice niente di strano il doctor Servatius dice la verità lui era la rotellina passiva ma è proprio qui che sta la particolarità della cosiddetto sistema totalitario il sistema totalitario è quello in cui il personaggio grigio l'impiegato il killer da scrivania quello che ha la testa vuota quello che non riconosce il bene dal male quello che è disposto a farsi mettere in testa dagli altri l'ideologia le idee i principi che non le valuta quello quello è la rotellina passiva e quello è il nuovo killer del ventesimo secolo cioè il killer della scrivania non è un mostro non è un essere diabolico nell'intelligenza è un uomo grigio e mediocre ecco la banalità del male è proprio questa e scrive un libro fondamentale che è il libro che si intitola appunto la banalità del male è un libro che dovete leggere perché è importantissimo per capire il secolo da cui proveniamo e quello in cui siamo entrati è la caratteristica del novecento il sistema totalitario trova come personaggi chiave degli stermini dei crimini più atroci quelli dei crimini più atroci come esecutori quelli che hanno la testa vuota che sono grigi mediocre e non esercitano l'intelletto e allora vedete che questa difesa di Robert Servatius è una difesa fatta nei confronti di uno che è comunque stato responsabile di crimini terribili perché occuparsi della logistica come vi dicevo è una roba terribile però ad esempio è una difesa che è servita non soltanto una difesa apprezzata da una persona come Anna Arendt la quale pur criticandola per certi versi l'ha ritenuta assolutamente dignitosa ma è una difesa apprezzata nelle parti che vi ho detto prima cioè nel dover riaffermare che nei processi non si deve teatralizzare che con i processi non si devono perseguire idee politiche non si devono perseguire non si devono perseguire i politici soltanto in ragione della loro attività politica bisogna perseguirli in ragione esclusivamente di fatti storici precisi e allora il dottor Servatius ad esempio aveva dimostrato che alcuni dei crimini di cui era accusato non li aveva commessi per esempio vi faccio soltanto un esempio allora Avanzè lui non aveva deciso niente Avanzè aveva fatto il segretario aveva redatto il verbale è una responsabilità gravissima che poi si è reso responsabile della soluzione finale ma non è un'accusa analoga a quella di cioè ma non è un atto tanto grave come quello invece di chi ha ideato e realizzato quindi se vogliamo parlare di una pena dobbiamo tenere conto anche di questo allora aveva era accusato di aver comandato gli Einsatzgruppen che erano unità mobili di massacro nella prima parte prima di di attuare lo sterminio finale ad Auschwitz nei grandi campi di concentramento lo sterminio lo sterminio era fatto con i fucilatori con questi Einsatzgruppen erano delle cose atroci che voi se 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 veramente vi lasciano perché questi fucilavano decine di migliaia di persone al giorno e per loro era diventato un problema gestire questa cosa perché si sporcavano tutti di sangue quindi Avanzè discutevano di questo non ce la facciamo più gli uomini i nostri fucilatori non riescono ad attuare sta roba qua l'avevano fatto in Ucraina ecco lui era stato accusato di aver comandato questi non era vero e l'ha dimostrato Dr. Servatius comandava i campi di concentramento non era vero dimostrato tutto assolto sono tutti i capi di imputazione da cui era stato assolto l'evacuazione del ghetto di Varsavia non aveva nessuna responsabilità non se n'era occupato assolto allora vedete che e chiudo anche su questo su questo tema di Eichmann anche la difesa del peggiore dei criminali perché Eichmann lo era era questa rotellina di questa macchina di sterminio quindi lui si era impegnato nella realizzazione della macchina dello sterminio ma la difesa nella misura in cui è volta a far affermare ad accertare i fatti storici le vere responsabilità a far assolvere dai fatti storici che lui non ha commesso è una difesa più che dignitosa e la difesa di un colpevole come Eichmann come ho detto all'inizio e torno sempre sul concetto è una difesa che serve ad affermare non solo la difesa ovviamente del colpevole nella parte in cui ha diritto di essere assolto ma la difesa dell'innocente perché se tu cancelli la difesa del colpevole poi non riesci più a distinguere quando puoi accettare e quando uno merita di essere difeso o meno quando puoi accettarlo come avvocato e quando invece uno merita di essere difeso o meno e su questo tema vi racconto un altro caso manca mezz'ora dobbiamo chiudere poi non sono la mia sofisticazione questa volta mi porta a schiantarmi contro un muro capito non si riesce a non si riesce a rimediare dai cerchiamo di farla veloce dai poi cerchiamo di allora c'è questo caso qua che è un altro caso molto interessante McMartin pre-school allora qui questa qui non so se ne avete mai sentito parlare allora qui siamo in una scuola pre-school cioè asilo nido California Manhattan Beach Manhattan Beach è un paesino poco a sud di Los Angeles è un piccolo paese va e viene allora è un piccolo paese e questa è una scuola un asilo nido immerso nel verde in una situazione un oasi è un oasi perché tutti i bambini sono contentissimi di andare non fanno i carici ci vanno i bambini dai tre mesi ai tre anni per cui siamo proprio con dei bambini veramente piccoli questo posto idilliaco è gestito da una famiglia abbiamo la Virginia McMartin che è questa vecchiettina simpaticissima buonissima con i bambini sembra un po' nonna papera però è proprio una persona splendida e poi abbiamo la figlia Peggy giusto? Peggy Peggy McMartin anche lei si occupa ascoltate perché questo qui è un caso è un caso che vi vi interesserà questa qui è la figlia Peggy e poi c'è Ray Bucky che è il figlio di Peggy la cui nonna è la prima Virginia e questo qui è un altro che viene riconosciuto da tutto il paese addirittura la scuola viene premiata dai cittadini perché offre un servizio importantissimo questo è uno che ha un talento per stare con i bambini c'ha proprio un talento naturale gioca i bambini si divertono dice mamma non vogliono fanno i capricci per andarci all'asilo e sono tutti contenti i genitori che devono andare a lavorare ecco allora che cosa succede? succede che a un bel giorno arriva la polizia li arresta tutti che cosa è successo? è successo che una mamma di nome Judy Johnson è un giorno andato a prendere suo figlio e ha visto che il figlio aveva delle macchiette strane rosse mentre lo cambiava sotto la canottiera sul collo ha cominciato a delucubrare a pensare dice cosa è successo e si è messa in testa che questo bambino aveva subito degli abusi sessuali da parte di Ray ha cominciato a chiedere al bambino che cosa potesse essere che cosa gli aveva fatto a Ray questo qua rispondeva non sapeva neanche di che cosa parlava e però a un certo punto lei elucubrando elucubrando va dalla polizia va dalla polizia racconta e dice io ho trovato questo bambino mio figlio ho parlato con lui mi ha fatto capire che lui è stato con questo Ray Baki e la polizia cosa fa? la polizia fa una lettera e la invia a 200 famiglie che avevano i bambini nella preschool al momento ma che li avevano mandati anche una volta e in questa lettera dice delle cose molto interessanti vediamo se la trovo allora dice questo qua il capo della polizia si chiama Kuhlmaier dice lettera strettamente personale e la manda a 200 famiglie strettamente riservata dice stiamo indagando su una persona che si chiama Ray Baki voi che avete i figli lì sappiate che questa persona lavora tutti i giorni con i vostri figli è lì che tutti i giorni riceve i vostri figli è possibile che Ray Baki fingendo di misurare la loro temperatura abbia sottoposto i bambini a questi sono testuali sesso orale palpazioni dell'area genitale e delle natiche sodomia se avete qualcosa da dirci segnalatecelo immediatamente e vi immaginate voi nelle 200 famiglie in cui arriva una lettera di questo genere che cosa succede succede che tutti cominciano a parlare il tema centrale di tutti gli abitanti di Manhattan Beach è questo e tutti chiedono al bambino ma cosa ti è successo è questo Ray e poi tra di loro si dicono ma questo Ray che ha 21 anni ma è possibile che deve sempre stare con i bambini non ha la fidanzata non fa niente è sempre lì e c'ha questo e sembra così buono e insomma arrivano centinaia di segnalazioni alla polizia di accasi che paiono di abuso sessuale e la polizia cosa fa la polizia manda tutti per volta da una struttura specializzata che si chiama Children International Institute che è diretto da una persona che si chiama Key McFarlane che è un'esperta in materia di psicologia infantile e di abusi sessuali sui minori e questa comincia a sentirli uno per uno con i genitori e gli mette in mano delle bamboline le bamboline che ci hanno peraltro che servono a simulare i rapporti sessuali che ci hanno attaccate delle cose strane che questi bambini dai tre mesi ai tre anni non sanno neanche cosa sono e cominciano a chiedere che cosa ha fatto Ray ma sei sicuro è così insomma 360 casi di trauma psicologico da abuso sessuale che vengono diagnosticati da questa Key McFarlane e dalla sua squadra e che cosa succede che vengono appunto schiaffati tutti in galera e questi si ritrovano in galera la scuola pre-school McMartin pre-school viene incendiata dai cittadini questi finiscono in galera nei bracci protetti perché se li lasciano sapete non sapete che chi è accusato di crimini di questo genere anche in Italia rischia l'incolumità fisica in carcere perché li ammazzano gli altri detenuti e così in America e quindi questi qui si ritrovano in carcere nascono delle imputazioni allora che cosa che cosa di che cosa vengono accusati vengono costretti a partecipare cioè dice dice che questo questa gente gli imputati vengono costretti a partecipare a film pornografici vengono cioè scusate i bambini vengono costretti a partecipare a film pornografici vengono costretti ad assistere alla mutilazione all'uccisione di animali vengono costretti a partecipare a rituali satanici compreso l'omicidio rituale di bambini dei quali Ray aveva bevuto sangue e bruciato i cadaveri molestati in un mercato e in un autolavaggio costretti a guardare mentre Ray Bucky uccideva una testugine piantandole un coltello nel guscio una minaccia perché minacciandoli così per poter impedire che parlassero queste erano le accuse vengono portati in aereo a Palm Springs violentati e riportati indietro vengono portati in un tunnel sotto la scuola e violentati queste erano soltanto alcune delle accuse 321 capi d'accusa tutti che cosa era successo era successo che questa Kim McFarlane aveva pure un fidanzato giornalista e tutte le sere quando tornava a casa a letto parlava con lui prima di addormentarsi gli raccontava tutto questo qua il giorno dopo scriveva sui giornali tutta l'America si porta attenzione a questo caso perché in tutta l'America non si parla d'altro in tutta l'America si trovano pedofili da tutte le parti è un caso che è diventato noto nella sociologia come caso di isteria collettiva vengono arrestate migliaia di persone in tutta l'America tutto il mondo poi alla fine viene a sapere di questa cosa siamo nel 1903 il 1983 e il 1989 che è l'anno in cui si finisce il processo finisce il processo ed è un processo che per la storia d'America è lungo sei anni ed è il più lungo processo che si si è svolto in America qui in Italia sei anni sono una quota abbastanza per i reati meno gravi è comunque diciamo cortissima allora e questa è la key McFarlane allora cosa succede? succede che ingaggiano dei difensori di fiducia e questi si cominciano a lavorare sul caso allora io già qui volevo arrivare a un punto cioè ma quando vi si presenta parlo io come difensor come avvocato penalista ma se mi presentano una persona che è accusata di robe così terribili che ormai tutto il mondo considera considera colpevole ma cosa faccio? mi vado a difenderla è proprio questo che bisogna fare l'avvocato che ha assunto l'incarico di queste persone ha fatto a studiare ma che viene questo? succede il microfono vabbè comunque l'avvocato si impegna studia tutto il caso fa delle indagini sue difensive e per esempio che cosa dimostra nel nostro caso? il tunnel in cui sembravano essere stati violentati i bambini sotto la scuola non esisteva la polizia non c'era manco andata che questa signora la mamma di quel bambino grazie che questa signora la Judy Johnson nel 1986 quindi in pieno corso del processo che finirà tre anni dopo ed era già iniziato da tre anni muore per un abuso perché è affetta da alcolismo che le avevano diagnosticato una schizofrenia maniacale per la quale vedeva colpevoli di reati analoghi dappertutto aveva fatto anche altre denunce contro altre persone tutto ciò è l'esito di un'attività difensiva che porterà alla soluzione anche in questi casi di queste persone che erano stati accusati di reati che non avevano commesso ma se un avvocato si ferma prima se un avvocato non si mette lì a studiare aveva peraltro c'era stata un'attività importantissima di analisi di tutti i verbali di questa dottoressa Kimi McFerlin del suo gruppo per analizzare come venivano effettivamente interrogati i bambini io ne ho letti alcuni per esempio dicevano a un bambino di due anni che non sapeva neanche di che cosa parlasse si parlasse gli dicevano ma tu sei un bambino per bene cominciavano così ma tu sei un bambino per bene che vuole rimuovere e quindi il no è un segno di abuso no ci sono delle cose che sono incredibili e purtroppo io ve lo dico per una mia esperienza personale non sono insolite si trovano ancora nelle cause giudiziarie a me è capitato un caso analogo e quindi il penalista cosa fa? si fida di quello che dicono gli altri e quindi dice no non ti difendo un altro caso e poi chiudiamo quanto manca? e vediamo dai vediamo allora guardate questa fotografia che bella allora questa è una fotografia bellissima l'avevamo cercata io io e Andrea vedete il Duomo il Duomo che è gremito da una folla di persone sono persone che sono rotte dal dolore non si è mai vista tanta folla così quella quella corsia che c'è in mezzo che fende la colla e la folla è una corsia da cui stanno per passare 16 bare è il 15 dicembre del 1969 passerà un'altra bara non da lì ma in un altro funerale qualche giorno dopo la 17esima che cosa era successo? era successo l'avete forse già capito a che cosa facciamo riferimento perché siamo al 15 dicembre 1969 tre giorni prima il 12 dicembre del 1969 esplodeva una bomba in un momento in cui era piena di gente nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana di Milano voi conoscete la storia della strage di Piazza Fontana strage di Piazza Fontana Banca Nazionale dell'Agricoltura esplosione in mezzo ci sono delle dichiarazioni che io ho letto di testimoni c'è un vigile urbano che dice che è entrato ha visto scene da guerra corpi spopolati corpi liquefatti una cosa terribile che cosa succede che fanno subito le indagini indagini che si orientano nei confronti del gruppo anarchico di Milano il gruppo del circolo della Ghisolfa il gruppo del circolo della Ghisolfa in cui vengono individuati due soggetti uno è Pietro Valpreda e l'altro è Pino Pinelli non abbiamo messo la fotografia lui è Pietro Valpreda non abbiamo messo la fotografia di Pino Pinelli Pino Pinelli è un'altra persona di questo circolo anarchico che viene arrestato insieme a Pietro Valpreda vengono tenuti tre giorni in questura poi a un certo punto il terzo giorno Pino Pinelli cade giù da una finestra muore la giustizia poi ricostruirà il caso e spiegherà lo farà un magistrato molto importante Gerardo D'Ambrosio che lui è caduto per un malore attivo nel senso che è svenuto ed è caduto giù ed è morto purtroppo da non mi ricordo più da quale piano comunque allora Pietro Valpreda viene riconosciuto responsabile su che base? la pista anarchica ma fondamentalmente viene riconosciuto responsabile perché viene individuato da un taxista che si chiama Cornelio Rolandi il quale dice che il giorno di Piazza Fontana un giorno si presenta dai carabinieri nella stazione vicino a Piazza Duomo e dice io sono tre giorni che ci sto pensando il giorno del 12 dicembre ero in Piazza Beccaria che voi sapete dove è Piazza Fontana è attaccata Piazza Beccaria è sempre lì Piazza Beccaria dice io ero in Piazza Beccaria è arrivato uno con una valigetta mi ha chiesto di prenderlo di portarlo in via al Bricci che era non molto lontano però di fermarsi in Piazza Fontana che è lì a dieci metri dico mi ha colpito questa cosa infatti io mi sono fermato lui con la valigetta è uscito poi è rientrato in macchina io sono stato lì ad aspettarlo non c'era più la valigetta e vi dico questo mi fa vedere la foto Valpreda e lui dice sì è un po' scavato potrebbe essere lui un po' scavato partono partono le indagini arrestato Valpreda e adesso vi leggo come veniva presentato dai giornali il giorno successivo a quello dell'arresto allora l'unità sapete che cos'è l'unità? e il quotidiano che adesso non c'è più credo c'è ancora? il sito mi sembra che sia chiuso comunque allora l'unità allora il mostro di Piazza Fontana l'Avanti che era quello era il giornale del partito socialista italiano individuo morso dall'odio viscerale e fascistico per ogni forma di democrazia il secolo d'Italia quotidiano del movimento sociale italiano di destra una belva oscena e ripugnante penetrata fino al midollo dalla luce comunista il messaggero una belva umana mascherata da comparsa da quattro soldi l'umanità socialdemocratico uno che odiava la borghesia al punto da gettare rettili nei teatri per terrorizzare gli spettatori la nazione un mostro disumano il tempo un pazzo sanguinario senza nessuno alle spalle guardiamo insieme la sera al Tg1 come veniva presentato da una persona che forse conoscete anche voi Bruno Vespa che già all'epoca lavorava per il Tg1 non va e se no lo saltiamo recuperiamo tempo si si trova subito scrivi Bruno Vespa Valpreda fantastico va bene questa qui la saltiamo va bene insomma questo per dirvi che il mondo intero si prende questa notizia Valpreda è il responsabile della strage di Piazza Fontana le autorità in questo filmato lo avevano annunciato pubblicamente tutto era fatto non c'era non c'era niente da discutere e lui evidentemente l'abbiamo trovato in fretta complimenti grazie siamo stati bravissimi è lui il responsabile della strage di Piazza Fontana e allora anche in questo caso cosa fa l'avvocato va a trovare Valpreda e gli dice ma tu vuoi essere difeso ma sei fuori non hai mica diritto sei tu responsabile lo dicono tutti è tutto chiuso no anche in questo caso l'avvocato deve entrare ed è accaduto che lui abbia trovato un avvocato che è entrato nel merito delle accuse dicevamo l'accusa principale era quella del riconoscimento fatto dal taxista Rolandi e hanno ricostruito come era avvenuto innanzitutto avevano capito che il taxista Rolandi quando è andato per la prima volta dalla polizia gli hanno fatto vedere la faccia di Valpreda e non gliela devi far vedere gliela devi far vedere con delle regole precise se no lo condizioni poi questo taxista si era ritrovato in una girandola di uffici che tra Milano e Roma lo facevano passare da tutte le parti alla fine dopo tre giorni che non dormiva era finito nell'ufficio di un giudice a Roma il quale l'aveva l'aveva portato in una stanza in cui si trovavano altre persone quattro o cinque persone che dovevano tra le quali lui doveva riconoscere quella giusta allora vedete questa fotografia qui che è una fotografia che sono riusciti a trovare gli avvocati dopo che lui era stato incarcerato per un sacco di tempo lui fa tre anni di carcere Pietro Valpreda allora qui guardate questa fotografia ma uno che non sa niente si trova di fronte a quattro persone tre e due cinque cinque persone tre tutti belli ben rasati ben pettinati giacca e cravatta uno tutto sgangherato che non ha dormito da tre giorni perché da tre giorni che è quello là lo capite no chi è tutto senza giacca con i cappelli tutto spettinato allora il taxista si trova di fronte a questa scena qua e gli dicono ma chi è il responsabile chi è quello che hai accompagnato lui l'igualo guarda un po' fa correre un po' la vista tra questi personaggi e poi fa l'élu perché era un milanese e indica Valpreda Valpreda diventa una bestia e dice ma sei fuori io non sono stato ma sei sicuro fa vabbè se l'éminga lui allora Chilge no ma se non è stato lui vuol dire che qui non c'è e non verbalizzano questa dichiarazione che è una dichiarazione di incertezza assoluta questo avevano scoperto gli avvocati questo avevano portato davanti ai giudici Valpreda farà tre anni di carcerazione preventiva ingiusta ingiusta perché lui non era il colpevole perché poi la storia ha spiegato che la strage di Piazza Fontana non è una strage fatta dagli anarchici ma è una strage fatta da Ordine Nuovo che è un'organizzazione che forse vi ho menzionato che vi ho menzionato all'inizio di estrema destra questa è una certezza storica poi sulle persone la certezza non si è mai raggiunta perché sono state assolte quelli che sono stati accusati anche se dal punto di vista storico delle certezze ci sono non erano sicuramente gli anarchici non era Pietro Valpreda la funzione degli avvocati in quel caso è stata quella di non accontentarsi delle risultanze che venivano proposte al mondo intero di andare a verificare e come quelli della Mark Martin School non si sono fatti scrupolo di accettare un incarico che all'inizio poteva sembrare perso un incarico che poteva portarti a difendere un colpevole ma soltanto grazie a questa mentalità sono arrivati a difendere un innocente questo è l'ultimo caso siamo riusciti a parlare tutti e quattro questo qui è una fotografia che vi fa capire che Pietro Valpreda è diventato poi un simbolo della cattiva giustizia italiana delle vittime di giustizia un'altra persona è quella che si chiama Enzo Tortora chiudo e poi se c'è qualche minuto c'è? non c'è? bene chiudo perché vi voglio lasciare una frase molto bella di Leonardo Sciascia la mia moglie mi rimprovera ma anche qui mi rimprovera cioè non riesco a capire veramente non ho scampo Leonardo Sciascia scrive quando l'opinione pubblica lo conoscete? uno dei più grandi scrittori italiani morto ma ci ha lasciato dei libri meravigliosi quando l'opinione pubblica appare divisa su un qualche clamoroso caso giudiziario divisa in innocentisti e colpevolisti in effetti la divisione non avviene sulla conoscenza degli elementi processuali a carico dell'imputato o a suo favore ma per impressioni di simpatia o di antipatia come uno scommettere su una partita di calcio o su una o su una corsa di cavalli ragazzi non accontentatevi mai di quello che vi dicono non accontentatevi mai delle cose superficiali andate sempre a fondo questo è il mestiere del penalista grazie grazie ragazzi siete troppo buoni grazie grazie allora qua sono state scritte tante cose perché mi piace perché vuol dire che allora civiltà ideologia avvocato crimini contro l'umanità difesa parola scritta gigantesca rispetto alle altre inviolabile colpevole processo fiducia caso Eichmann giustizia diritto croce nel senso di fulvio immagino e qui abbiamo scritto pedofilia testimone diritto valore politicizzazione terroristi responsabilità principi fondamentali metto il plurale qui c'è scritto principio fondamentale il diritto di difesa innocente fulvio croce inviolabile corte d'assise insomma ragazzi abbiamo parlato veramente di tante cose oggi vi ringrazio tantissimo perché per me è una gioia sì sì se volete farmi delle domande purtroppo il tempo è tirando ma se c'è qualcuno che vuole farmi delle domande sono a disposizione se qualcuno ha delle domande l'ho chiesto nessuno no è finita basta hanno ceduto addirittura ragazzi ragazzi mi dicono che non potete uscire siete tutti in stato di arresto allora lui ce l'ha una domanda la solita frase fatta che si sente spesso meglio un innocente in galea o un colpevole fuori volevo sapere riguardo a questa posizione cosa ne pensa lei eh questo è una bella domanda certo allora per i principi fondamentali io sono nettamente schierato che per l'idea che è meglio un innocente fuori che un colpevole che è meglio no che è meglio un colpevole fuori che un innocente dentro questo evidentemente è una delle delle conseguenze della affermazione di questi principi di cui vi ho parlato perché l'innocenza è il valore supremo e non può essere sacrificato la colpevolezza la colpevolezza evidentemente è un errore perché poi gli errori giudiziari ci sono gli errori giudiziari ci sono e ci sono tante persone che non avendo commesso dei reati finiscono in galera e quindi piuttosto che accettare una cosa di questo genere preferisco che ci sia un responsabile in libertà perché è immensamente più vulnerato il nostro il nostro sistema di diritto dalla incarcerazione di un innocente piuttosto che dalla libertà concessa ad un colpevole su questo io proprio non ho nessun dubbio nell'affermazione dei principi devi fare delle valutazioni diciamo macro e su questo io non ho nessun dubbio c'è qualcosa altro sì nella sua carriera di fronte a che tipo di caso si è trovato di fronte a un bivio nel scegliere se difendere o meno sì certo ci sono stati tantissimi casi in cui io ho scelto di non accettare l'incarico e altri casi sì sì quello che io voglio voglio dirvi è che alla base non c'è mai il criterio sulla base del quale io accetto un incarico non è mai quello della colpevolezza o meno io posso accettare anche l'incarico da uno che tutto sommato ho capito perché io poi leggo gli atti che è colpevole anche se lui magari dice di non esserlo perché quasi tutti dicono di non esserlo poi se c'è qualche minuto vi racconto anche un episodio particolare che vi spiega la psicologia di uno che viene sottoposto a processo che succedono nella testa delle cose strane e niente mi è capitato di non accettare ma perché magari la persona trovo che non sia che non sia corretta nei miei confronti non mi racconta le cose come debbono andare e quindi io temo che la difesa con questa qui non sarebbe non si riuscirebbe a svolgere in maniera corretta possono poi esserci un sacco di motivi ma io posso anche non accettare un incarico per simpatia o d'antipatia cioè la cosa importante è che si affermino i principi e cioè che il diritto di difesa vale per tutti colpevoli e ovviamente anche per la maggior ragione per gli innocenti per cui dipende da tantissimi condizioni il fatto che io accetti o meno l'incarico e dicevo il caso astratto in cui uno viene da me e mi dice io sono colpevole di un reato gravissimo e avvocato per cortesia mi faccia mi faccia uscire il caso in astratto non c'è io quando difendo un colpevole poi metto in atto sulla base perché magari vedo che nel fascicolo contro di lui il fascicolo processuale c'è un sacco di prove contro di lui allora gli dico guardi è inutile che io vado a raccontare delle balle che poi nessuno mi crede e le danno anche una pacca molto forte andiamo là io lo aiuto con una difesa tecnica gli dico guardi lei prima di tutto ad esempio se c'è una vittima la deve risarcire e lo convinco ad aprire il portafoglio che non crediate che sia una cosa facile perché chi è sottoposto a un processo poi si convince di avere ragione e lo convinco ad aprire il portafoglio magari a dare dei soldi alla vittima per poter ottenere un attenuante ad esempio e poi lo convinco quando è spacciato quando mi rendo conto che io devo fare delle prognosi di condanna allora gli dico guardi lei innanzitutto comincia a risarcire la vittima poi non andiamo a fare il processo ordinario con il dibattimento testimoni facciamo dei riti alternativi patteggiamento si chiamano giudizi abbreviati dei riti cioè dei processi più corti in cui ti premia la legge se accedi a questi se scegli di fare questi riti e ti danno un terzo di pena in meno vi sto facendo degli esempi grossolani ma per dirvi che la funzione dell'avvocato penalista è anche una funzione sociale per esempio aiuta a far risarcire le vittime per esempio e sono tutta una serie di discorsi poi dicevamo la testa di chi viene accusato di un reato e va sotto processo una testa strana un mio amico per esempio vi racconto questo caso difficilissimo che vi dicano che sono colpevole però a un mio amico una volta è capitato che uno è andato da lui per un reato poco grave e gli dice guardi avvocato io sono qua mi hanno accusato di aver fatto un falso ideologico perché in comune ho dichiarato che anziché non avere un figlio ho scritto no all'anagrafe lo ammetto ho scritto ho scritto no anziché uno e il mio amico lo guarda e fa ma senta mi faccia capire un attimo è un avvocato il mio amico dice va bene mi faccia vedere ma guardi che secondo me lei mica ha scritto no lei ha scritto uno lui lo guarda ma no guardi che ho scritto lo ammetto ho scritto no senta facciamo una cosa facciamo fare una consulenza grafologica vediamo cosa ci dice la grafologa cioè l'esperto la grafologa fa la consulenza risponde dice no guardi che lui ha scritto uno a me risulta sulla base della sua grafia qui c'è scritto uno e lui dice vede facciamo la richiesta di archiviazione il pubblico ministero la vede e dice si va ha scritto uno non ha scritto no archiviato allora dopo mesi questo qua torna nello studio del mio amico e il mio amico ha visto che l'hanno archiviato lui fa ma guardi sti bastardi che mi avevano detto che io ho scritto no invece avevo scritto uno perché questi si mettono la testa alla fine uno si convince e cancella gli aspetti negativi li converte poi prende forza dagli elementi dagli argomenti che gli avvocati gli offrono li fanno propri e si convincono della soluzione più positiva per loro per cui per noi se dovessimo distinguere tra la colpevolezza e la non colpevolezza sarebbe un disastro noi dobbiamo andare a vedere il fascicolo a vedere le prove a ragionare tecnicamente su queste cose allora dai abbiamo finito possiamo chiudere faccio solo una domanda quanti di voi ritengono disdicevole e sbagliato difendere un colpevole alzino la mano grazie ragazzi grazie grazie di essere venuti ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti